Mi chiamo Wade Watts. Mio padre scelse questo nome perché sembrava l'identità segreta di un supereroe, tipo Peter Parker o Bruce Banner. Ma morì quando ero piccolo, come mia madre. E sono finito qui. Qui, nel mio piccolo angolo nel nulla. Non c'è nessun posto dove andare. Nessuno. A parte Oasis. Un intero universo virtuale. La gente viene su Oasis per tutto quello che si può fare. Ma ci rimane per tutto quello che si può essere. Lo senti questo? Sì. È l'unico posto dove sento di avere un senso. Oasis è un parto della mente di James Halliday. Salve. Se mi state guardando, sono morto. Ho creato un oggetto nascosto. Un easter egg. Il primo che troverà l'egg erediterà 500 miliardi di dollari. E il controllo totale di Oasis stesso. Chi è questo Parzival? E come diavolo fa a vincere? Trovatelo. Non è solo un gioco. Si tratta di vita e morte nella realtà. Oasis è la più importante risorsa economica del mondo. Questa non è altro che una guerra per il controllo del futuro. Benvenuto nella ribellione, Wade. Come molti di voi sono venuto qui per evadere. Ma ho trovato qualcosa di molto più grande di me stesso. Siate disposti a combattere? Insieme salveremo Oasis.